perché noi dobbiamo far partire qualunque discorso sulla sapienza da Dioniso perché è Dioniso, il signore del vino, che è vita fremente e non Apollo che lo ingabbia con la sua, col suo rigido schema, con la sua ragione ma Apollo rappresenta il sole, il sole è vita, perché non integrarlo? Quindi Dioniso, la terra è l'elemento acqueo e Apollo, la luce che rende vivente tutto l'armonia di questi due estremi rende il mondo la meraviglia che noi possiamo godere e vivere, brindiamo a questo Brindiamo! Yo! E voi! E voi! E voi! Noi siamo i Figli del Sole e siamo a Festa Etrusca e al Parco archeologico di Baratti, Populonia Noi siamo un gruppo di rievocazione storica che ricostruisce la Grecia, classica ed ellenistica e si occupa di ricostruire sia gli aspetti della vita civile, quindi il simposio, i banchetti, la filosofia, la scienza, la tecnica, ma anche aspetti di vita militare, quindi l'arruamento dell'oplita, classico, e del falangita macedone, oltre che quello dei mercenari traci che accompagnavano gli eserciti greci in battaglia. Noi abbiamo la possibilità qui di mostrarvi diversi aspetti di questa antica cultura e civiltà. Tenete a trovarci!